Luciano Littizzetto! Grazie, grazie, grazie. Mi spiace che Givago è già andato via. Eh? Givago è già andato. È andato via perché c'è una... Cosa vuoi fare a entrare? Niente, però, non so, chiederei a Meloni se può fare un bonus, un tronco di pino. Ma che cosa vuoi dire? Niente, adesso bisogna festeggiare. Io ho portato la torta. Brava, hai fatto bene. Facciamo entrare la torta. Facciamo entrare la torta! Accompagna la torta, il simbolo di Torino, la maschera Gianduia, sorpresa per Luciana. Cosa c'è scritto qua? C'è scritto, età percepita 39. Vabbè, è bello a 60 anni dire questa cosa. No, io 39 percepisco. Poi, la verità, l'età mentale è proprio 5 anni, perché rido ancora quando sento dire cacca. Gianduia vuole dire qualcosa? Sì. Madame Luciana. Luciana? Luciana, più oltre, Luciana, no? Cerea. Cerea. Anche la vita. Sì. Gli anni passano, avanti, gli anni avanti. Avanti. Sì, ok? Cosa sta dicendo? Sì, gli anni nella vita passano, vanno, vanno. Noi tutti, tutti noi tutti siamo belli, sì? Sì. Noi tutti siamo qui. Per fare la festa. Ma non la festa, eh? E augurei buon compleanno. Grazie. Gianduia, augura buon compleanno a Luciana. Certo che passare da Givago a Gianduia, c'è sempre una G, ma non è proprio la stessa cosa. Spegni le candeline dell'età percepita, 39. Età percepita, 39. Ce la fai e hai bisogno di aiuto? Però quella viena su 60. Collo 87. Vabbè, età viena a 60, vai. Stacco di coscia, vado per i 70. Auguri, grazie. La torta la riprendiamo dopo. Grazie, Gianduia. E questo che è bello. Grazie, grazie. Sì, ma state bene insieme. Tu prego. Siete una bella coppia. E accendiamo pure le luci, che quasi aspetto tutto. Allora, ho una sorpresina per te. No, perché ti ho fatto mandare degli auguri. Mandiamo il primo filmato di auguri per Luciana? Guarda che cosa ti ho compiuto. Ciao, Luciana, sono un grande anno. Oggi compi i tuoi bei ecci anni. Una delizia. E che ti devo dire? Dai, dai, dai. Pedaliamo. Pedala che ancora gli ammolli. Auguri. Ciao, Luciana. Non sai quanto sono felice. Quante cose abbiamo in comune. Lavoriamo nella stessa radio. Siamo entrambi dello Scorpione. Io compio gli anni domani e tu li compi oggi. Vicini, vicini proprio. E poi anche tu, come me, entri nel mondo dei sessantenni. Tanti auguri, tanti baci. Auguri a Linus, sessantenni anche lui domani. Anche lui. Ma no, ne avrà anche di più, Linus. No, ha detto lui, sessantenni. No. Nei sessantenni, va bene. No, io non compio sessantenni. Nei compio cinquantanotte. Luciana, se io avessi detto che tu compi i cinquantanotte, nessuno ci mandava i video, capito? Ho detto, cifra tonda e così la gente si conviene. Ma tu, ma cosa vai a dire? Lascia stare. Sembriamo già Gino Paolo e Merna Valore. Guardiamo, guardiamo questo, guardiamo questo video. Lucianina, auguri. Ma non capita tutti i giorni di compiere sessant'anni. Sessant'anni tondi. Complimenti. I favolosi anni sessanta. E ti aspettano anche gli psichedelici anni settanta e gli edonistici anni ottanta. Poi i divertentissimi anni novanta e poi giù a uovo verso gli anni duemila. Non li dimostri, Lucianina. Io lo so perché ti conosco molto bene e so che tu dentro te ne senti cinquantanove. Ti voglio bene. Un bacio. Ciao, auguri, eh? Ciao, Luciana. Quando mi hanno detto che dovevo mandarti un videomessaggio per il tuo compleanno sono rimasto molto, molto contento. Ci conosciamo a tanti anni e quindi sono qui a farti tanti, tanti auguri per i tuoi sessant'anni. Guarda, mi ero anche attrezzato. Ecco qua. Feliz cumpleaños. Sì, è in spagnolo, però tanto ormai siamo internazionali, no? Quindi che se ne frega. Io penso che sessant'anni sia una cifra importante e quindi un numero importante dovrebbe essere celebrato in maniera diversa. quindi avevo pensato di farti una sorpresa che ho ordinato online però hanno sbagliato uno dei due numeri, il sessant'uno per cui, boh, niente. Sei veramente. Tieni di buono sto messaggio anche per il prossimo anno e tanti tanti auguri di buon compleanno ancora. Grazie Alex, grazie a Fabio De Luigi, a Linus, a Sabrina Ferilli. Se dicevo che erano 59, non te li mandava nessuno. No, grazie, grazie. Comunque Linus ha sessant'assei anni. E non li dimostra. No, perché? Ce n'è ancora uno. Un augurio speciale per te. Vediamo. Ed eccomi qua, Luciana. Non rispondermi, perché come vedi forse non so se lo capisci ma dovresti capirlo perché mi conosci e sai come vi vesto normalmente a casa e nella vita e come vedi ho un abito elegante quindi non sono collegata in diretta perché sto registrando e quindi non devi rispondere. Sono qua e sono apparsa perché so che oggi è il tuo compleanno. Come mi chiami tu? Balenga. Non so se chiamarti Balenga. Però volevo farti non so se me ne aggramo anche tra gli auguri per il compleanno. No, pare che non me ne aggramo. Quindi volevo farti gli auguri io sapevo per i tuoi 59 anni e invece Fabio mi ha detto che sbagliavo che ne compi 60. Ammazza, mi porti bene 60 anni. Perché 60 anni è una tappa importante nella vita. Io l'ho superata. Però anche tu ci sei arrivata giustamente. Fabio mi ha detto sai 60 anni Luciana ci tiene tanto e sui 60. E quindi... Siete due cretini, due cretini. Un compleanno Luciana. 60 anni ti faccio tanti tanti auguri. Grazie Fabio che mi ha ricordato che non è compi 59 ma ben 60. Tanti auguri Luciana. Ciao Balenga. Ciao ciao. Grazie Maria. Grazie Maria De Filippi. Auguri a Luciana. Per te. Non sono 60 perché sennò non le reggi. Grazie. Buon compleanno. Grazie. Arrivederci io vado. Eh sarebbe anche bello così però... Eh? No vuoi dire qualcosa? Eh ma no certo che devo dire vorrei fare il pezzo ma questo ora... No capito se dicevo 59 non veniva nessuno invece ho detto 60... Ma l'hai già detto una volta. Va bene. No no. Minchia. Va bene. Tieni va grazie. Ma almeno farmi un regalo un regalo concreto non so un viaggio che posso andare via due settimane invece di stare tutte le domeniche qua. Soffri la macchina poi stai male. Ma no in aereo voglio andare in Kenya come quella signora americana. L'hai vista quella signora americana che è andata in Kenya? No che è successo? Poi è arrivata la dogana doveva ritornare di nuovo in America e alla dogana gli hanno chiesto ha qualcosa da dichiarare? E lei ha detto yes. Eh? Lo dico perché siamo su Discovery quindi parlo in inglese. Yes. E questi gli hanno detto e che cosa? Cosa ha da dichiarare? E lei ha detto the poo of giraffe. The poo cioè della cacca of giraffe. Di giraffe. Ho capito giraffe. No perché poo in inglese è cacca. È cacca. Ok vai avanti. Quindi Winnie the poo e Vincenzo la merda. Ho capito questo questa settimana ho scoperto questa cosa qua. Mamma mia arrivano 60 anni per ti sta cosa. Ma no anche i poo che si chiamano poo per i... No per via dell'orsetto Winnie the poo che era un orsetto che è uno dei figli dei poo aveva e deriva da quello. Comunque andiamo avanti. È meglio. Lei dentro questo trolley aveva della cacca di giraffa. Vediamola. No non vediamola assolutamente. No vediamola. Ecco. Guarda che nugatine che marron glacé che praline. La... No. la conchiglia non c'entra di... No appunto perché... Però se no era un fatto scientifico rilevante. No 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 no. No però vedi che c'è la birra di fianco per dare l'idea di quanto sono... Cioè io me le facevo più grosse. Bene. Cioè da un animale così maestoso che Filippo ha visto quest'estate mi immaginavo ci fosse qualcosa di eclatante. È data a fare un safari. Sì ma non è che è andata a vedere gli escribenti. L'hai vista la cacca di giraffa? Non li ha portate. Cosa sei andata a fare il safari se non sei andata a vedere com'era la cacca di giraffa? Scusami mi immaginavo qualcosa di eclatante. E invece... Scusami hai un collo di tre metri e poi si vede che insomma fai poi la cacca di un chihuahua. Ma che c'è tra... Magari quella roba lì fa già da intestino quando arriva al fondo c'è poca roba diciamo. Mamma mia ragazzi. No comunque ovviamente la domanda è stata ma scusi perché signora lei si porta delle deiezioni di giraffa di giraffa e lei ha risposto perché mi servono? a fare che? A fare dei gioielli. Io faccio dei gioielli con la cacca di giraffa. Li ho fatti anche già con la cacca di alce. Capisci? Questa signora intersiava gioielli con cacca di giraffa come cantava De Andrè dai diamanti non nasce niente dall'etame nascono i fior. Quindi guarda che sarebbe una bella idea per tutti i proprietari di cani di giraffe no di giraffe no di cani a questo punto che uno si porta a casa una piccola fresa e si fa braccialetti collane personali e dici guarda che bel punto luce guarda me l'ha defecato Orazio il mio Doberman ti piace? Guarda qua che bel diadema eh? Questo qua invece me l'ha fatto il mio Labrador. Comunque magari sono anche gioielli di valore perché adesso il valore magari non si conta in carati ma si conta in carati ecco comunque non gliel'hanno fatto a portare questa cacca le hanno buttata via perché hanno detto che porta le malattie eccetera i virus e ci manca ancora che ci prendiamo qualche malattia già dal pangolino adesso anche dalla cacca di girafa ci prendiamo il cagona virus e siamo rovinati però però potrebbe essere scientifico un'idea per far circolare l'economia scusami dopo compro oro e vendo cacca per esempio a lei dovremo presentare anche l'urinatore cinese non so se avete letto questa settimana di quel operaio hai avuto una settimana intensa Luciana scaldola in Cina spunto il video di un operaio che urina in un serbatoio della birra cioè questo operaio cinese gli scappava portava fortissimamente la pipì e ha deciso di farla pensava che nessuno lo vedesse invece c'erano le telecamere che l'hanno ripreso e niente addirittura l'azienda è crollata in borsa vediamo ecco qua ecco qua adesso qua è scritto in cinese non capiamo ma lui sta facendo la pipì ecco adesso per esempio questo video c'è scritto sorpreso un operaio durante le ore di lavoro sì sì mentre pisciava c'è scritto in cinese adesso Discovery l'ha visto e l'ha già assunto gli ha già fatto il contratto sì sì proprio per fare birrifici da incubo e prostate al limite tutti per real time va bene è normale che non si arrabbiano no sono proprio quegli operai che danno tutto per l'azienda fino all'ultima goccia e no c'è da capire perché questo qua ha fatto la pipì cioè non poteva farla da un'altra parte a parte che di solito bevi la birra poi fai invece lui prima di berla ha fatto che farla ma poi guarda che la Cina è grande devi proprio farla no ci sono 8000 chilometri di muraglia cinese fanno contro la muraglia cinese per dire no a meno che non sia proprio l'ingrediente segreto no ti prego ma sì ma ci sono sempre degli ingredienti segreti di grandi prodotti e sai il colore è quello ton sur ton dai ton sur ton ce l'ha anche la coca cola è l'ingrediente segreto spettila solo che marrone dai no senti ah ragazzi cioè le notizie di questa settimana e di questi giorni sono così desolanti sì che bisogna trovare qualcosa che faccia una volta tanto hai ragione ecco no però c'è una notizia bella di questa settimana che è questa qua questa signora 85enne che era ostaggio di Hamas è stata liberata dopo 16 giorni stava andando con i volontari verso l'ambulanza poi è tornata indietro si è girata è andata a stringere la mano a uno dei suoi carcerieri che aveva il passamontagna le ha stretto la mano e ha detto shalom cioè pace e l'ha detto è stata anche molto criticata poi in Israele e invece lei è stata molto coraggiosa perché comunque sarei prigioniera quando hai 85 anni non deve essere anche facile mamma mia no e lei ha detto questa parola che è una parola dove ci sta dentro tutto tutto il senso di quello che stiamo vivendo tutto quello che pensano gli uomini quello che è stato detto qua stasera da tutti no? pace non ha detto giustizia perché la giustizia ormai sta prendendo delle pieghe di vendetta della vendetta della vendetta della vendetta lei ha detto pace pace e basta ed è una piccola goccia questa parola nel mare però se tu pensi che siamo nel deserto questa goccia è molto preziosa quindi la ringraziamo andiamo avanti anche Valeriona Marini ha parlato di pace e ha invocato la pace e vediamo che cosa ha detto ecco in questo momento così drammatico non smettiamo mai di pregare perché ritorni la pace che è bella bella frase sì peccato che la dice con una posa che non è esattamente proprio di preghiera ecco come dire cioè non è proprio di raccoglimento cioè anche con con questo vestito un po' tutti fermi sempre le apparenze no no bello il vestito non riesci mai ad andare in profondità dell'ordine monastico delle figlie devote all'animalie cioè vestita di leopard come cararmati tedeschi va bene va bene allora ma veniamo a parlare delle notizie della settimana vediamo che cosa sta succedendo alla coppia Meloni Gianbruno no basta alla coppia dice posta e vediamo come come si sta comportando la pietra che non si consuma con l'acqua vediamo eccola qua diciamo lei non benone qui sembra addirittura che si sia fatta suora ma in realtà è un effetto ottico perché era di fianco il re del Bahrain che era venuto in visita e quindi anche lei però tutte e due poi questa settimana sono andati dal parrucchiere perché quando le cose prendono una brutta piega si va a fare la piega ma facciamo tutti è così no soprattutto la donna la donna cioè il comportamento femminile quando c'è stato appunto uno strappo col fidanzato fa quello diciamo la donna si alza la mattina molto triste mette il naso contro il vetro guarda dieci minuti fuori il vuoto meglio se piove c'ha addosso un golfone di quelli sformati che arrivano fino ai piedi le maniche lunghe come delle proboscidi mamma mia che immagine è disastrosa no bevi il caffè dalla scodella mescolando con le lacrime mamma mia e poi chiami una tua amica e cosa fai piangi 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 finché la tua amica si rompe le palle mette giù tu ne chiami un'altra e invece con l'altra ripeti ossessivamente scema io scema io scema io per 30 volte quel punto lì metti giù e vai dal parrucchiere ecco no lo dico agli uomini che si chiedono ma magari con la mia compagna sta andando bene sta andando male questa è la prova non dovete neanche spremervi le meningi se la vostra compagna la vostra moglie va una volta sola al mese dal parrucchiere vuol dire che va tutto bene tutto tranquillo se va più di due volte alla settimana dovete rivolgervi alla Bernardini de pace quindi lei qua insomma non è che sta benissimo diciamo che emana l'entusiasmo proprio di un buco nero ma vediamo invece lui come l'ha presa guardiamo lui eccolo qua lui contentone vabbè ma tu prendi l'espressione di un istante ma che vuol dire il sorriso goduto di chi pensa ho messo in crisi due partiti della maggioranza non ho il lavoro non ho più la compagna nonché presidente del consiglio ma sono intimamente convinto che il mondo è fatto di stronzi e prima o poi tornerò in auge anche io questo è il pensiero vedi con quella manina lì non si strizza sei spietata i gioielli della corona ma c'ha il ditino che accarezza il mento ha tagliato il ciuffo per passare inosservato e gliel'ha tagliato il parrucchiere il coiffure che nel suo caso è un ciuffer cioè proprio quello che si occupa esplicitamente dovresti andare anche tu a questo ciuffo ormai guarda come sono comunque lui si chiama Gennaro pensa che una pagina Instagram che si chiama Gennaro non sbaglia mai e Gianvruno invece sbaglia sempre comunque e qua è proprio come cantava Dalla io qui che sto morendo e tu che mangi il gelato e tu che mangi il gelato esattamente così ma per fortuna questa settimana abemus manovram quasi abbiamo la manovra non è ancora vediamo la faccia soddisfatta di Ermeloni dopo averla presentata ecco qua molto contenta soddisfatta adesso non so se quella è la faccia della manovra o la faccia quando ha sentito Marina Berlusconi dire che non c'è nessun retroscena sul caso Gian Bruno sì allora vediamo che cosa ho assimilato di questa manovra adesso ve la spiego oh mamma mia allora intanto la legge Fornero dopo tanta cacciara non l'hanno tolta eh hanno praticamente vinto le elezioni dicendo che l'avrebbero messa a rogo e invece sta riforma Fornero è ancora lì solida compatta cioè proprio la colonna traiana un po' più o meno più o meno una mazza proprio un paracarro dello Stelvio ricordiamoci sempre queste immagini vediamole era il 2015 ecco qua quando ancora Adele cantava hello it's me e lui diceva con questo tatto ci ha sbarmellato per tanto tempo con il solito tatto di non essere d'accordo con la riforma Fornero ma senza metterla sul personale ma mi fa molto ridere perché al fondo c'è scritto ma non finisce qui e infatti non è finita qui c'è ancora esattamente come prima ecco andiamo avanti però è rimasta quota 103 scusa è rimasta quota 103 ma l'obiettivo del governo è farci andare in pensione a 104 anni con 105 anni di contributi qua stop Fornero chissà chi fine ha fatto quella felpa forse l'ha tenuto e ha invertito le lettere post Fornero e andiamo avanti i tagli sulle accise della benzina l'abbiamo sentito non ci sono non ci sono state io ricordo ancora quel video in cui Ermeloni prometteva con gli occhi a bulbo di tulipano che le avrebbero tolte ma un altro caposaldo del governo caduto in disgrazia ecco no perché quello che voglio dire io è che se tu prometti delle cose durante la campagna elettorale non dico che devi fare al 100% però se tu mi prometti che mi darai una fetta di formaggio con i buchi e poi dopo quando sei al governo mi dai solo i buchi capisci che io ci rimango male se tu mi prometti maionese per tutti e poi me ne fai leccare un goccio su un rasoio ci rimango male poi ci sono un sacco di bonus per carità il bonus è una cosa che prendono i soldi da una parte e li danno da un'altra parte se sei nell'altra parte ti va bene se non sei in quell'altra parte lì evadi l'età poi è riaumentata l'iva sugli assorbenti ho sentito un crack la rotula no no è proprio lo schermo iva sugli assorbenti perché il ciclo è diventato un bene di lusso perché se veramente se avessero il ciclo gli uomini cioè gli assorbenti li porterebbero i vigili urbani a casa come le multe gratis è così non abbiamo la controprova sì sì li venderebbero direttamente nelle bocciofile anzi a gratis ci sarebbero i distributori automatici guarda te lo dico poi io non capisco perché cioè l'aumento del prezzo hai sentito anche tu crack sì ho sentito o non è meglio scendere per un attimo no ho sentito un crack sospetto no dicevo no ha fatto crack a questo vedi che fa drin drin vabbè dicevo non capisco perché ci sarà un beneficio per l'economia cioè l'economia si alza grazie agli assorbenti con le ali non ho capito perché hanno aumentato la cosa e poi hanno aumentato anche le sigarette sì le sigarette sono aumentate penso sia il ciclo e fumi si è rovinata cioè devi cominciare a fumare in meno pausa perché se no non ci stai dentro il budget poi ci sarà anche il bonus asili allora ed ecco fatto che ho preparato una letterina oh signora è il momento della letterina perché il bonus asilo nido avevano detto che era gratis adesso invece diciamo che è un tot di che se guardi è rotto un tot di denaro che verrà dato ma ci vogliono dei requisiti specifici particolari per esempio dobbiamo mettere la musica un isei sotto i 40 mila euro solo esclusivamente per i figli nati nel 2024 se nella stessa famiglia è già presente un figlio con meno di 10 anni ci sono un sacco di gabole per avere questi denari quindi prima o poi ci sarà scritto do dei consigli è richiesto che in famiglia ci sia almeno un parente con un testicolo solo che la somma degli stipendi dei genitori sia in numero dispari e non pari che ci sia almeno un gatto bianco in casa e nonno abbia il colesterolo basso requisito inderogabile poi che il secondo figlio sia stato concepito con la musica della Pausini in sottofondo letterina alla Meloni a Meloni alla sempre garbatissima Meloni di Garbatella fu giambruna ora Meloni singola quindi Melona ti parlo da un'altra rete come avrai saputo ci siamo trasferiti ma noi qui stiamo bene abbiamo tutto quel che ci serve adesso siamo americani e come tali siamo tuoi alleati siamo in una rete guardo l'orario manca tre minuti siamo in una rete che ha molto in comune con Mediaset infatti anche qui Gian Bruno Jean Maron non c'è scrivo questa letterina te che sei Giorgia sei una donna e sei soprattutto una madre tu che rappresenti tutta la famiglia italiana fratella d'Italia cognata di Lollo Brigida sorella del capo del tuo partito e badante di Salvini tu che sempre sostenuta sei dalla nostra roccia la ministra Roccella Roccella come Ionica Roccella come l'acqua della salute e visto che vicina alla chiesa Roccella di Rovo ma soprattutto tu che ci hai parlato del bonus asilo gratis per il secondo figlio e noi abbiamo visto la luce è il tuo obiettivo hai poi detto che bello avere obiettivo oggi pensare in grande guardare lontano avere un dream un sogno come diceva Martin Luther King anche io Giorgio ho l'obiettivo di vincere Miss Italia anelo ma non credo succederà e qui è uguale scusa se te lo dico Melons ma se non ci sono gli asili nemmeno per il primo di figlio cosa ci serve l'asilo gratis per il secondo non ci sono Giorgia segnatelo non ci sono asili a sufficienza e quelli che ci sono hanno liste d'attesa che neanche una borsa di Hermès code lunghe come fuori dall'Euronix nel giorno del Black Friday i giovani genitori li bramano gli asili se li sognano la notte quei luoghi magici pieni di lettini pisolini forbicini dalle punte arrotondate dove le maestre sembrano giganti e i bidelli dei ciclopi e dove c'è quel buon profumino di talco fissane cacca gli asili quei coacervi di virus e batteri che neanche in un laboratorio di Wuhan che i bambini si passano come coriandoli a carnevale e che restano innocui fino al venerdì pomeriggio per poi esplodere nel weekend in fiumi di catarro febbri da mulo ed esantemi sconosciuti persino e persino l'OMS lo sai che l'Europa ci chiede entro il 2030 asili nido per il 45% dei bambini e adesso sai a quanto stiamo 44 e 3 quarti 44 e mezzo forse no amore 11 11% quindi di cosa stiamo parlando Gio? è come dare il bonus gratis a sellino della bicicletta quando manca la bici o il bonus benzina che è senza macchina appena 27 posti ogni 100 bambini e al sud ancora meno più di 2 bambini su 3 non ha un posto all'asilo nido addirittura in certi comuni ti prendono il pupo o la pupa da un anno in avanti e prima cioè lo sapete che il periodo di maternità non dura un anno ma 5 mesi e allora anche la renta che si paga è alta più o meno 300 euro al mese più buoni pasto 5 euro al mese mettici adesso l'iva ancora su pannolini latte in polvere e pappe e io ti chiedo ti sembrano misure per incentivare la natalità? certo ti puoi far aiutare dei nonni ma i nonni non sono mica tutti come la unzicher a volte abitano lontano a volte sono sderenati a volte stanno già bevendo il caffè in paradiso e se passa la riforma delle pensioni è possibile che i nonni abbiano appena finito lo stage certo c'è l'asilo privato però gli paghi il doppio 620 euro al mese mettici anche una babysitter che li vada a prendere portare e la mamma va a lavorare per la gloria contando che guadagna in media il 15% in meno di un uomo capisci Ermeloni perché molte donne in età fertile che sono collegate in questo momento su 9 stanno pensando di trasformare le loro tube di fallopio in un grazioso monile per l'estate stanno pensando di arridare la Yolanda e metterla su Airbnb per questo ti chiedo facciamo le cose con ordine prima gli asili per tutti poi i bonus per i secondogeniti se no è inutile dolersi perché la natalità è bassa e ci sono sempre meno bambini se non si accura neanche di quelli che nascono so che sei sensibile anche nella tua pietrità e so che mi ascolterai sempre tua la dottoressa schiacciapalle PS Cara Melons hai detto che una donna che mette al mondo almeno due figli ha già offerto un importante contributo alla società ecco volevo solo dirti che anche le donne che hanno un solo figlio o che non possono avere figli o che non vogliono avere figli o che fanno quel cavolo che pare a loro se pagano le tasse il contributo alla società lo danno Luciana Littizzetto sei tu che hai fatto a noi il regalo per il tuo compleanno Lucianina Littizzetto auguri adesso mandiamo pubblicità e subito dopo Fedez pubblicità